Purtroppo non mi vengono neanche le parole perché è uno strazio, puoi vedere anche la moglie in quello stato, tutti i familiari. Comunque è un grande uomo, è andato via un grande uomo, vi posso dire solo quello. Lo ricordano tutti come una persona speciale per Gentino Tanganelli, il 72enne vittima dell'alluvione di Arezzo. Una figura importante non solo per la città ma anche per un fatto che lui faceva parte dell'Uomo Pond, tante associazioni, è stato sempre presente in tutte le cose della città e quindi io non lo dimenticherò mai. La salma è stata restituita questo pomeriggio alla famiglia dopo che si è concluso il riscontro sul corpo dell'uomo effettuato dall'equipa di medicina legale di Siena e disposto dal PM Laura Taddei che ha aperto dopo il decesso un'inchiesta a carico di ignoti. L'esame ha confermato che per Gentino Tanganelli è caduto trascinato dalla piena mentre stava tentando di rientrare a casa a piedi, ha poi battuto la testa ed infine è precipitato in un canale di scolo. Il corpo senza vita del 72enne era stato ritrovato la scorsa domenica mattina poco dopo le 8 vicino al sottopasso di Ristradelle in località Olmo. Era una persona unica, praticamente una città intera che domani fanno il lutto cittadino pure. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha infatti programmato il lutto cittadino nel giorno dell'ultimo saluto al pensionato. I funerali saranno celebrati domani alle 15 in Duomo.